Il complesso turistico Kensington è un'autentica oasi di tranquillità immerso nella natura a ridosso del centro storico di San Marco Argentano. Il nuovissimo parco della piscina offre una vista incantevole grazie ad un quadro naturalistico da sogno. Immerso in una natura incontaminata tra boschi e ruscelli offre pieno relax e abbronzature perfette. Sole tutto il giorno, privacy, sicurezza, pulizia, servizio docce gratuito, spogliatoi, tanta musica, divertimento e relax garantito, animazioni e giochi in piscina. Self service con specialità di carne e pesce, rosticceria assortita, squisita pizzeria napoletana cotta con forno a legna. Il complesso turistico Kensington rende il tuo soggiorno piacevole indimenticabile grazie anche ad un'elegantissima sala ricevimento e b&b. Stanza singola, doppia, tripla e matrimoniale, dotate di televisore d'aria condizionata. A disposizione degli ospiti un ampio e luminosissimo soggiorno per la prima colazione nonché terrazzo e parcheggi. Il parco della piscina Kensington è la location ideale anche per i tuoi eventi di gala. Parco della piscina ricevimenti Kensington, la meta ideale per vacanze indimenticabili. Incontrata a Bonavita, San Marco Argentano, Cosenza. Telefono 0984 51 1100. Grazie a tutti.